Le manifestazioni aeree fanno sempre un grande effetto. Le manifestazioni aeree fanno sempre un grande effetto. Gravissimo, eccezionale. Guardate che roba. Bravissimo. Grazie. 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 Grazie a migliaia di esemplari. Grazie. 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 Benissimo, perfetto. Siamo tolti il magone Marco Valiera è un ragazzo che ha fatto volo vincolato Per chi conosce quella specialità modellistica Ecco il sottofondo Io naturalmente sto zitto Per farmi seguire il nuovo tempo di musica Grazie Grazie Marco, Marco Complimenti Bravissimo E dopo il nostro cartoncino Valiera Grazie 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 Grazie